Il Black Friday da noi comincia prima! A partire dal 18 novembre, vendita promozionale con sconti del 30% sulla nuova collezione autunno-inverno dei migliori brand. Non approfittarne sarebbe un peccato! Grutta d'Auria Michele e a Caltanisetta in corso Vittorio Emanuele 62-64. Grutta d'Auria Michele, tradizioni rinnovate. Grazie per la visione!